Il principe Harry vivrebbe ancora nel Regno Unito se sua madre, la principessa Diana, fosse viva, secondo l'ex addetto stampa del defunto reale. Harry e suo fratello, il principe William, si riuniranno oggi per svelare la statua commemorativa della loro defunta madre nel Sunken Garden di Kensington Palace, in quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno. I fratelli hanno commissionato questo tributo a Diana nel ventesimo anniversario della sua morte insieme. Prima che la loro frattura peggiorasse Harry lasciasse definitivamente l'ovile reale. Sebbene i fratelli abbiano parlato brevemente al funerale del principe Filippo ad aprile, si pensa che William fosse desideroso di evitare discussioni approfondite nel caso in cui i Sussex lo facessero trapelare ai media statunitensi. Alcuni rapporti affermano che i fratelli cercheranno di avere una conversazione a tavolino dopo l'inaugurazione della statua oggi, poiché è una giornata così emozionante per loro due. Ma una fonte ha affermato, ho l'impressione che Harry non rimarrà a lungo, il che lascia pochissimo tempo per discorsi davvero significativi. Non è chiaro quando Harry sarebbe volato nel Regno Unito dalla sua nuova casa in California se la cerimonia di inaugurazione della statua non fosse stata programmata per luglio. Sebbene la statua commemora Diana, molti credono che la defunta principessa del Galles avrebbe avuto il cuore spezzato nel vedere i suoi due figli coinvolti in una faida così amara. L'ex addetto stampa di Diana e del principe Carlo, di chi Arbiter, ha persino affermato che sarebbe stata in grado di risolverlo. Ha affermato. Avrebbe sbattuto la testa insieme e avrebbe detto loro di sistemare le cose. La spaccatura non sarebbe mai andata così male e penso che Harry sarebbe ancora qui nel Regno Unito se Diana fosse ancora in giro. Questa affermazione è supportata dalla recente ammissione del Duca del Sussex di aver trovato Londra attiva perché gli ha ricordato la vita impegnativa di Diana sotto i riflettori. Parlando durante la sua docuserie Apple TV più The May You Can't See, Harry ha detto «Londra è un fattore scatenante, sfortunatamente, a causa di quello che è successo a mia madre e per quello che ho vissuto e quello che ho visto». Ha detto che questa sensazione di apprensione succede ogni volta che atterra a Londra. Grazie a tutti.